Oltre che con la mimica, si rappresenta con la parola One. Adesso vorremmo dire tutti insieme. Ho detto lo stupore, no? Dalla segnalazione. Tutto inizia nel 1945, quando nell'ospedale di Loreto Mare di Napoli succede una cosa inconsolita. Il dottore Edoardo Nicolanti, che lavora proprio in quell'ospedale, si accorge di un trambusso del reparto maternità e attirato da grida e frastuone incuriosito dalla stranizia della vicenda, decide di andare a controllare. Ed ecco la faccia e lo stupore del dottore che sgramma. E tutti iniziano a trovare delle giustificazioni. E forse è successo qualcosa che la scienza non sa spiegare. Sì, è successo attraverso uno sguardo, uno sguardo intenso che ha lasciato il segno. E invece poi c'è chi vuole sdrammatizzare. Ma questi fatti, uh, questi fatti, uh, se ne vedono migliaia. E invece poi travi chi vuole spiegare, ragionare. Ma dove si semina il grano? Il grano cresce. Ora riesce o non riesce. Ma sempre grano è quello che esce. Come dare torto. E invece c'è sempre chi vuole stuzzicare. Uno ha guardato. Un'impressione. Ma vai a trovarlo adesso che è stato che ha fatto il tiro buono. E il fatto è che quel bimbo è nero. Nero, nero. Gormacchino. 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 No. Ciao. A presto. e il cristalzo e il suo senso è un altro raro, se deve non brillar. E il modo abbastanza di un mondo, è un po' per me le armas, però si è un po' impressione. E se è un amare, se è un amore, se è un po' per me, Non mi è stata raccoglione, non mi è venuta, non mi è venuta, non mi è venuta, non mi è venuta, non mi è venuta. Ha detto parola, non ti è parlato, perché sti ragionando, perché sti facendo giustegare. Ma, continui, vi sento Buganaiva, è venuta, non mi è venuta, non mi è venuta, non mi è venuta, perché sti facendo la storle, perché sti facendo il fretto, non mi è venuta, non mi è venuta, non mi è venuta, non mi è venuta. E signorine, capotevi, fa un amore che i marocchini, e i marocchini saluti nell'ansia, e signorine che fa un zannanzo, e mi ricannestesse, la parola regavata e prese, se il nome è la pulizia e mette in panorocco, non sai se la spazia d'alto a sapere di erano grandi, se non è la proposta accante, se non è la risulta, se non è la risulta, se non è la risulta, e si fa di mamma, non è la risulta, se gira e vola, se, se vola e gira, se, ma non parla, non è la risulta, e si fa di mamma, non è la risulta, se 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 Grazie.